afferro come prima, tacco la presa, ora la mano a sinistra da sotto, cambio, afferro il taglio della mano, afferro il taglio della mano con le prime brevi, poi chiudo col pollice sulla puntualazione del polso, l'indice non serve, però serve l'altra mano per fare il tema washi, uno, due, tre, da basso su in direzione del suo gruppo, non all'esterno, per l'abilità dell'altro c'è, devo andare verso di lui e portarlo per il punto in direzione, questa non tiene una pressione, nel polso, l'altra sulle dita stessa cosa verso l'alto, allora uno, questo non c'entra niente, serve adesso soltanto per arrivare a qualcosa di una lascia, a ferro, su verso l'alto, ok, ancora una volta, uno, due, la mia posizione è sempre sul piano, se uno, il braccio sinistro che fa la leva, solo mi dà decisione, se lo faccio dall'altra parte sarà al contrario, chiaro, allora la sinistra, la torsione, la destra, sulla sua lato, poi afferro il suo polso, non all'esterno, all'interno, dalla parte della mano, poi con la mano destra, senza prendere, vado a colpire, anche questa è una tecnica, vado a colpire, anche questa è una tecnica, vado a scendizio, vuoto di caesce, la leva è praticamente questa, caesce va a chiudere, e metti il leva al prossimo, uno, due, non devo andare verso alto, devo rimanere l'altezza della cintura, devo soltanto ruotare, e mettere un leva al ricorso, perciò abbiamo, il primo che è, un po' più meglio che abbiamo fatto questo, il secondo che abbiamo fatto un pochinovashi e quest'altro, il terzo, un pochinovashi, è questo, queste sono le tre leve in polsi che sono andate in tutte le salse, nel jiu jitsu, nel giungo, soprattutto la ikigo, tutte e tre le leve, no, Kotei Gaeshi, è sicuramente per tutti, per tutte le scuole, soprattutto di jiu jitsu, è Kotei Gaeshi, è lo stesso nome per tutti, Kotei Nei e Kotei Moavashi, potete, a seconda della scuola, trovare, i Nei 1 e Moavashi l'altro, o viceversa, ok, però, il Judo, questo è i Nei 1 e questi Moavashi, forza provateli tutti, ok? All right?